Soprattutto viene utilizzato dalle collaboratrici e dalle colleghe del call center che fissano gli appuntamenti che arrivano via telefono. Inoltre viene poi utilizzato dagli operatori allo sportello quando hanno il cliente davanti a loro e fissano direttamente l'appuntamento in ufficio. Inoltre gestiamo circa da 20-25 prodotti attraverso Appointment e Wildix. Soprattutto abbiamo avuto una negocizazione nel ricercare i nostri clienti perché abbiamo tolto l'ambiguità dei cognomi. Se pensiamo solo che noi nel mondo tedesco abbiamo un cognome che si chiama Maier che può essere scritto in otto o nove forme diverse. In più abbiamo risolto il problema dell'umidità perché riusciamo a trovare subito le persone che hanno lo stesso nome. Inoltre bisogna dire che il nostro problema più grosso fosse che la nostra clientela sono degli anziani o degli stranieri, in quel momento spesso non capibili al telefono. Con questo sistema abbiamo risolto il problema.